Fare finta di nulla sarebbe ipocrita. Nell'Arezzo serpeggia del nervosismo eccessivo e il denominatore comune si delinea proprio nel suo punto di forza, Ezio Capuano. L'espulsione di Città di Castello, figlia di un alterco con l'ex San Giovannese Calori per una palla contestata, fece affiorare una situazione sorprendente. Poi il dopo partita con il Pontedera, Capuano irritato per la sconfitta salutò in maniera strana il ritorno di Panariello, il giocatore che era stato il suo pretoriano nella passata stagione. Poi c'è stato il finale di San Giovanni con la rissa sfiorata, le critiche esplicite a chi aveva organizzato partite di questo tipo. Visto che l'Arezzo non può giocare in precampionato nell'ordine con Real Madrid, Barcellona, Bayern e Paris Saint Germain, non si capisce perché si sia arrivato così a tanto. È vero le avversarie di turno hanno giocato a volte con fuga eccessiva, ma per dirla alla Mijajlovic il calcio non è per signorine e quindi certi passaggi ci possono anche stare. Purtroppo il quadro che emerge è un altro. Il calcio di agosto ha un valore relativo, ma l'interrogativo sorge spontaneo. L'Arezzo ha vinto solo con la Cascianese e a Città di Castello, grazie peraltro a un dubbio rigore nel finale trasformato da Capece con grande freddezza. Per il resto meglio dimenticare. Capuano aveva detto che a San Giovanni avremmo visto il vero Arezzo e se l'Arezzo è quello del Fedini, di lavoro da fare ce n'è ancora parecchio. Ecco perché il tecnico è nervoso, la squadra non sta assemblando il suo modo di pensare. Certi giocatori sono in ritardo, Betancourt in primis, ma soprattutto è la società che deve dare un segnale. L'arrivo di Berrettoni può essere una prima risposta, ma non l'unica, visto che per caratteristiche il giocatore ha una seconda punta. E là davanti Capuano ha bisogno di un vero finalizzatore.